Sono il sindaco di Prene, piacere di conoscerci. È la prima volta che sono ospite di Villa Eulaglia. È molto bella, complimenti alla direzione della struttura e a tutte le maestranze. Gli ospiti sono sereni e bellissimi. A proposito, oggi specchio delle mie brame. Chi è il più bello del reame? Baffa e nonno Cesare. Raggiante come sempre, oggi ancora di più perché ha raggiunto un rapporto che a tutti non è permesso. Ha compiuto cento anni. Complimenti. Auguroni da parte mia e di tutti i tre mesi che ti ricordano sempre con tanta nostalgia. Un po' dappertutto. Noi ci vediamo qui un paio di volte al mese, per la messa, per la preghiera. E anche adesso voglio chiedere al Signore una benedizione speciale, particolare. Per lei e per la sua famiglia, ma soprattutto per questa famiglia allargata che è questa comunità. Per tutti davvero invochiamo la benedizione del Signore con l'augurio che anche tutti gli altri che sono qui presenti possono arrivare alla stessa meta, a compie di cent'anni. E poi, diciamo la verità, quando un po' di anni fa, ho visto proprio io la scena, c'era un uomo molto arzillo, molto in gamba, che prendeva la rincorsa e saltava sulla bicicletta. E un giovane, vedendolo così, arzillo in gamba, gli dice, ma come in gamba? Lei campa fino a cent'anni. E lui si rivolta e risponde, perché dopo non ce ne sono più. E quindi, e l'augurio, e cento, e tutti i quali che ci sono anche dopo. Bene, buona festa a tutti. Grazie! Grazie!